Romina Carrisi in lacrime. La terribile notizia di poco fa sul figlio a pochi giorni dalla nascita. Purtroppo mio figlio è stato. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Durante l'ultima puntata di, Viva Rai Due minuti, Rosario Fiorello ha scherzato sulla scelta del nome del neonato figlio della figlia più giovane di Albano e Romina Power. Axel Lupo è il nome del bambino. E Fiorello, 63 anni. Ha commentato sarcasticamente. Sono tutti fissati. È anche nato il nipote di Albano. L'hanno chiamato. Come? Axel Lupo? Ma perché? Ma poi sono sempre i figli di quelli famosi che vogliono dare? Ma puoi un bambino chiamarlo Axel Lupo? Schernendo anche la scelta di nomi insoliti, ha aggiunto. Pensa se incontra Nathan Falco. Falco, Lupo, Leone. Mai che uno chiama una figlia blatta. Ti immagini? Una figlia femmina blatta? Questo commento ha scatenato la reazione di Romina Carrisi. Madre del neonato. Che ha definito l'osservazione di Fiorello, puro bullismo. Attraverso una Instagram story, Romina ha espresso la sua disapprovazione. Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì, certo. Fiorello si fa per ridere. Ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Ha poi suggerito che forse Fiorello e sua sorella Catena hanno subito scherzi simili da bambini. Aggiungendo. Forse da piccoli hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Concludendo. Ha assicurato che il piccolo Axel Lupo sta bene e ha inviato baci. Augurando buon Sanremo. Axel Lupo è nato il 24 gennaio a Roma. Frutto della relazione tra Romina e il compagno Stefano Rastelli. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.